Grazie per la tua umile e profettica testimonianza di amore a Cristo e alla sua Chiesa. Oscar Romero aveva creduto alla scelta preferenziale per i poveri proclamata dal Concilio Vaticano II. Quindi in questo senso direi che è molto sintonico con quello che chiede Papa Francesco, di uscire nelle periferie, di incontrare i poveri, di identificarsi con i poveri che rappresentano Cristo. Grazie.